Avviare azioni coordinate concrete per rendere il territorio più sicuro. Questo è il tema dell'incontro di lunedì 5 febbraio 90 Vicentina. Una prima azione concreta potrebbe essere l'installazione di nuove telecamere di sorveglianza. Sentiamo. Tema sicurezza all'ordine del giorno anche nel basso vicentino. Se ne è parlato nella sede di confartigianato di 90 con il maresciallo Stanislao di Biasio e il comandante Paolo Sartori. Un confronto sulla situazione promossa dal patto delle categorie economiche del basso vicentino. Area a vocazione prevalentemente agricola e non densamente popolata, anche soggetta a scorribande. Per prima cosa imprenditori e cittadini sono invitati a contattare sempre il 112 per fare segnalazioni, anche preventive, in caso di eventi sospetti. Dando così la possibilità di intervenire con pattugliamenti e prevenire azioni di illegalità. Delinquenze e furti colpiscono i nostri territori. Abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro con le forze dell'ordine per coordinarci con tutte le altre attività e categorie economiche del territorio in quello che può essere un aiuto alle forze dell'ordine per il controllo di queste attività illegali, anche tramite la videosorveglianza. Andiamo in agenda un incontro pubblico per fare il punto della situazione e lanciare delle proposte su alcune iniziative di sensibilizzazione insieme con gli imprenditori del territorio con lo scopo di condividere soluzioni di prevenzione e contrasto alla delinquenza, attivando forme dirette di collaborazione con gli organismi di vigilanza e stimolando ulteriormente il senso civico dei residenti dell'area. È un tema importante, le associazioni di categoria si stanno muovendo per sensibilizzare i propri associati a collaborare con le forze dell'ordine per cercare di contenere questi fenomeni di illegalità e delinquenza.